Sarà un sabato di grande sport per le squadre della nostra provincia impegnate nella massima serie di pallavolo, basket e calcio a 5. È proprio quest'ultimo a dare il via alle danze alle 18 con la diretta su Rossini TV dell'Ital Service impegnata in trasferta in casa dell'Olympus Roma, remake a sei giorni di distanza del match di salso maggiore che ha consegnato la Coppa Italia ai pesaresi proprio a scapito dei capitolini. Conquistata la Coppa, l'Ital Service capoclassifica va ora a caccia del terzo scudetto consecutivo. Alle 19 invece scende in campo in anticipo anche la Carpegna Prosciutto-Pesaro chiamata a Tortona nel difficile impegno con la Bertram che Coach Banchi ha così presentato nella conferenza stampa di oggi. Per quanto ci riguarda è stata un'altra settimana un po' complessa nella sua preparazione così come lo è stato l'approccio alla gara contro Brescia. È un periodo nel quale non riusciamo ad allenarci con continuità, abbiamo un gruppo di giocatori un po' ridotto, perdura l'assenza di Camarà, ci sono stati piccoli acciacchi che hanno tenuto soprattutto a inizio settimana qualche giocatore fuori dall'allenamento e questo ci impedisce di arrivare a un numero legale per poterci allenare come vorremmo. Era successo prima della gara contro Brescia, è successo stavolta, però dobbiamo assolutamente trovare delle risorse per prepararci bene a questa parte conclusiva di stagione. Dobbiamo prepararci a una gara molto impegnativa, una squadra solida, lo ha già dimostrato in tante circostanze, lo ha dimostrato qui nella gara di andata, come detto è una neopromossa per modo di dire, una squadra che ha confermato sul campo la propria ambizione. In qualche modo questa gara arriva sulla scia di quella di Brescia e quindi due squadre che stanno attraversando un periodo analogo, quindi sono da considerare a tutti gli effetti due delle più belle realtà di questa stagione. A completare il sabato alle 20.30 al Pala Carneroli di Urbino scende in campo la Megabox Vallefoglia a tre giorni dalla splendida aritmetica salvezza ottenuta mercoledì a Roma. Proprio le capitoline dell'Acqua e Sapone saranno di nuovo a versare a Urbino a caccia dei punti per la permanenza in Serie A. Quella massima serie che sarà ancora realtà per il 2022-2023 per la società del Presidente Angeli. Finalmente è arrivato questo momento, l'abbiamo sognato dal primo giorno in cui abbiamo fatto la 1. Ricordo a tutti che tre anni fa facevamo la B1 e che quindi è stato un percorso per pazzi sognatori. Siamo stati premiati nonostante quest'anno sia successo di tutto, delle robe che non sono dipese dalla volontà di alcuno ma che hanno avuto una casualità comunque tragica. Dal sabato alla domenica torna in campo la Vispesero che alle 14.30 se la vedrà al Benelli con i Toscani del Montevarchi. Vis chiamata a far punti per sedare l'emorragia di tre sconfitte consecutive e rimettersi in corsa per il rush finale play-off nelle quattro finali che restano. Domenica casalinga anche per la Pesaro Rugby che affronterà Noceto al Toti Patrignani.